Si è svolta oggi al circolo della RAI di Roma la partita della parità e del rispetto a favore delle donne iraniane voluta da WISP, Amnesty International e Associazione Calciatori Italiani in campo anche alcune rappresentanti dell'Iran Football Club Femminile in Italia il servizio di Maria Barresi Io non potevo andare al stadio, non potevo giocare con maschile, non potevo arbitrare, figurati Quando sono arrivata qua ho capito che il mondo è molto più grande rispetto a quello che pensavo è stato molto più bello e adesso mi sono contenta, sono qui ma mi dispiace tanto per quelli che sono lì ancora Il suo fischietto l'ha usato per la prima volta in Italia nove anni fa Sanam, un arbitro iraniano che vive e lavora a Torino si commuove pensando ai diritti umani calpestati nel suo paese soprattutto quelli delle donne per cui scende in campo ogni volta che può per partite come queste organizzate fra gli altri da Amnesty International Abbiamo bisogno di parlare di diritti umani, di uguaglianza a chi non è vicino ai nostri temi e il calcio è un linguaggio universale che arriva nei cuori di tutti e di tutte La seconda edizione della partita della parità e del rispetto vuole trasmettere questo messaggio Quest'anno al fianco del popolo iraniano soprattutto delle donne iraniane colpite da discriminazioni pesantissime da parte del regime totalitario Giocare a calcio significa per me lottare per la pace e fare la mia parte contro la brutalità dice Shah Jaiek che alla vigilia dei mondiali in Qatar a proposito del suo Iran in campo dice No, non è giusto non puoi giocare quando sai che il tuo paese non è felice grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti